Gentilissima Baronessa Castaldo de Luca Nigro, il giorno 7 del mese corrente, il giovane Ferdinando sarà presso di voi per conoscere una zia verso cui già arde del più profondo desiderio di amare e venerare come una mamma. La panza mia quando si tra sotto tu non è più la stessa che la trave fuoca, è spartosa ma non fa male, anzi da gioia, pur si fa luccare chiangere ma sono lacrime gioia, sono lacrime miei piacere. Grazie a tutti.